Ritirati altri due lotti di inchiostro per tatuaggi, a l loro interno sostanze cancerogene. Sostanze cancerogene nell'inchiostro utilizzato per i tatuaggi. Il Ministero della Salute richiama nuovi lotti considerati pericolosi per la salute umana. Questa volta a finire nel mirino delle autorità sono stati vari lotti del marchio Black Dynamic, prodotti dalla ditta Barbero Lesale, Barnsley, in Gran Bretagna e importati in Italia dalla Sunskin Tattoo Equipment di Latina, RM. I lotti richiamati sono di colore nero e sono caratterizzati dai seguenti numeri, l'891.024.110 e l'891.022.050. Secondo le analisi condotte da Arpa Piemonte, nell'inchiostro dell'891.022.050 sono presenti idrocarburi policiclici aromatici, IPA, in concentrazione pari a 7,568 più 1,419 mg barra kg con superamento pertanto dei valori massimi, 0,5 mg barra kg, individuati dalla risoluzione europea 2008 Rays Up, 2008-1. Gli idrocarburi policiclici aromatici sono classificati come cancerogeni. Il lotto 91.024.110, analizzato da Buzzi presenta IPA pari a 20,9 mg barra kg. Nell'etichetta è riportata la dizione, attenzione non usare per tatuaggi, inchiostro da disegno e calligrafia. Una nota dei NAS ha imposto la vigilanza sull'impiego di quest'ultima tipologia di inchiostro che non deve essere assolutamente usato per i tatuaggi. Una recente ricerca ha confermato che le sostanze presenti nell'inchiostro arrivano nel sangue non si tratta del primo richiamo da parte del Ministero. Qualche settimana fa, era stato ritirato anche l'inchiostro Strong Black Biotech caratterizzato dal numero di lotto 16 M09, dopo il monitoraggio svolto da Arpa Piemonte che aveva rilevato la presenza di idrocarburi policiclici aromatici, IPA, e benzoapirene, BAP, in concentrazione pari a 1,201 più barra 0,264 mg, Kg.